e benvenuti in un nuovo video questo è un video tutorial su come usare point of interest nella funzione del dji go questo video tutorial va bene per il phantom 4 e dji mavic ho scelto questo posto il più bello della zona questa chiesa dietro alle mie spalle in pratica cosa consiste il point of interest consiste a far girare il drone automaticamente attorno al nostro punto di interesse che il mio punto sarà la chiesa di porto venere phantom 4 pronto per il volo ok ci portiamo direttamente sopra in questo modo la centriamo completamente molto bene poi andiamo impostazioni point of interest ok adesso abbiamo registrato che il punto di interesse è questo ci troviamo ci spostiamo per il raggio che vogliamo molto bene perfetto perfetto e adesso incominciamo la nostra registrazione ci allontaniamo ancora un po qua ci viene data l'altitudine ai metri del raggio che il nostro drone andrà a compiere applichiamo e il nostro drone starà già aumentiamo un po la velocità e il nostro drone completamente automatico non dobbiamo fare nient'altro che goderci a ripresa del drone non dobbiamo fare un po' di più non dobbiamo fare un po' di più e molto bene il video dovrebbe essere venuto iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace al prossimo video ciao a tutti